Due ex consiglieri regionali del Molise coinvolti nello scandalo spese pazze effettuate con i fondi a disposizione dei gruppi consigliari regionali dovranno restituire alla regione oltre 235 mila euro. La Corte dei Conti del Molise, con sentenza pubblicata il 25 marzo scorso, ha infatti condannato l'ex consigliere regionale Antonino Molinaro a restituire alla regione oltre 45 mila euro. Sentenza che segue la condanna penale per peculato. Oltre 43 mila euro i fondi destinati all'attività del gruppo e che tra il 2007 e il 2009 il consigliere molisano aveva utilizzato impropriamente. Lo scorso 14 dicembre invece l'ex consigliere regionale venafrano Nicandro Ottaviano era stato condannato dalla Corte dei Conti a restituire alla regione oltre 190 mila euro. Somme spese tra il 2007 e il 2011 quando era capogruppo dell'Italia dei Valori. Anche Ottaviano era stato a processo e condannato per peculato continuato.